Allora, siamo qui con il Minimastetti. Vado a sapere, insomma, come mai, diciamo, intraprendere il suo mestiere, insomma, quello che fa lo spazzino, è stato vittorio, insomma, come mai? Le si dà... Come mai, ecco? Spazzino, eccetera, eccetera, perché voi sono dati. Eh, eh, comunque. Mi sono trovato a fare questo lavoro non volendo, perché sono partito dalla mobilità, poi mi sono trovato in dentro. Però sinceramente non è che sto... Contento. Contento. Che mestiere avrebbe voluto fare, sentiamo? Preferivo fare quello che facevo prima, nel senso... Tagliatore, magazziniere, tutti i lavori, sono un bel raggio a far tutto. Qui, purtroppo, sono da solo a fare tanti lavori in un paese... Di merda? Eh, no, un paese che, purtroppo, un operaio vuole tutti questi problemi. Anche perché i soldi non ripagano. Lo stipendio è un grand che? Ecco. E me lo fa un... Lo dico! Come una canestra. Ecco, ma alla fine, però, alla fine della fiera, insomma, lei, quindi, diciamo, le vorrebbe fare un altro mestiere, insomma. Ho capito questo. No, vorrebbe... Forse ho sbagliato ad accettare questo mestiere. Anche se... Fa sto fisso. Comunque, la finiamo qui. Noi volevo capire solo il motivo della sua scelta. Però, mi è meglio, vuole far capire che se avessi potuto scegliere un altro lavoro e cambiare, avrebbe fatto un'altra cosa, insomma, avrebbe svolto un altro mestiere. Sicuramente. Ok, allora, ci vediamo in prossima puntata. Arrivederci, grazie. Grazie a te. Ciao.